Io avrei altre due richieste testimoniali alla luce di queste deposizioni. Il senatore Vizzini in merito a un incontro avvenuto con il dottor Borsellino il 16 luglio 1992 a Roma. Questo lo chiedo alla luce di un articolo che è stato pubblicato e esce oggi dal mensile Il Sud, dal titolo Borsellino l'ultima scena parlando di mafia appalti. Quindi in sostanza il senatore Carlo Vizzini avrebbe scenato insieme con il dottor Borsellino il 16 luglio 1992. Io peraltro qua c'è il capitolato che potrei depositare, prima lo faccio vedere al pubblico ministero. Intanto verbalizziamo queste richieste integrative. La difesa chiede di esaminare quale teste il colonnello canale in ordine all'articolato già depositato. In relazione poi alle acquisizioni odierne chiede che vengano sentiti quali testi il dottor Francesco Gratteri ed il senatore Carlo Vizzini sugli articolati che deposita. Ma che ha rilasciato qualche intervista. Sì, l'ho detto prima, ha rilasciato un'intervista al mensile Il Sud dal titolo Borsellino l'ultima scena parlando di mafia appalti. Questo è un estratto da internet, peraltro il mensile esce oggi. Si fa ricevedimento intanto a una scena, al fatto che il senatore Vizzini è stato chiamato da il dottor Borsellino, lo forte e Natoli che erano a Roma per interrogare Mutolo, andarono a cena e parlarono a quanto pare dell'inchiesta mafia appalti. Vizzini per il momento sospendiamo il giudizio, sì.